E la manovra, l'obiettivo dello sciopero generale del 17 novembre, una mobilitazione nazionale indetta dalla CGL e dalla Will per porre l'accento su un provvedimento che a loro dire non risolve, in alcuni punti rischia addirittura di ingannare gli italiani. In Veneto si replica il 24 la manifestazione nazionale in programma a Padova. Quando raccontiamo alle persone che a gennaio avranno 150 euro di più in busta paga perché c'è il cuneo fiscale, è una bugia assoluta perché questo governo ha rifinanziato il cuneo fiscale che era stato ottenuto con lo sciopero della Will e della CGL contro il governo Draghi e praticamente questo vuol dire che a gennaio le buste paghe saranno esattamente uguali a quelle di dicembre. Sappiamo che c'è un problema di riperimento delle risorse, sappiamo che non c'è la bacchetta magica per fare le cose, ma non è stato nemmeno fatto nulla su questo. Ci sono due temi, l'evasione fiscale e i profitti. Tassare queste due cose, combattere l'evasione fiscale per dare un po' di luce. Noi non chiediamo il tutto subito, ma una linea che faccia dare speranza ai giovani di quest'Italia e un po' di rassicurazioni a questi anziani che si trovano sempre più in difficoltà. E non ultimo, ci stanno telefonando i comuni che stanno alzando le addizionali comunali e la Regione ha tenuto duro nel non toccare quella regionale. Cosa significa? Significa che le tasse le pagheranno i soliti, ma i comuni sono obbligati per mantenere i servizi che ci sono ad alzare le aliquote. Dunque questa finanziaria per noi così non va bene. Quindi c'è il rischio che passato l'anno poi si abbia con il 2025 150 euro in meno? Speriamo di no. L'unica cosa che non è strutturale, è rifinanziata e soprattutto non è finanziata neanche per tutte le mensilità. La tredicesima questa volta non è stata messa dentro. È una partita che bisogna lottare tutte le volte e ogni governo avrà la possibilità di dire guardate che da quest'anno ci saranno 150 euro in più, ma sono sempre gli stessi. Parlando per quanto concerne, lei parlava dell'aumento necessario dell'addizionale comunale. puntando un po' il dito sul fatto che la regione invece quasi per un principio più politico che amministrativo non intende aumentare l'addizionale IRPEF regionale. Secondo lei invece questa dovrebbe essere la strada? Noi non chiediamo di aumentare le tasse, chiediamo di diminuirle. Alla regione noi avevamo dato una disponibilità che ci fosse un'addizionale regionale per i redditi più alti solo per la sanità e per il sociale. Sono riusciti loro a trovare 10 milioni di euro per dare compensazione a questo. Non hanno accettato questa strada. Se il prossimo anno, quando ci sarà da pagare il canone della Pedemontana, la regione ci chiederà di aumentare l'addizionale per far questo, noi diremo di no. Uno dei temi gravi di questa finanziaria è che vengono toccate le pensioni dei sanitari e quelli che lavorano nel pubblico impiego. E succede una cosa, che questi vanno in pensione prima e capiterà che se questa finanziaria non viene cambiata, i medici hanno proclamato uno sciopero proprio per questo, che 400 medici, questi sono i numeri che noi abbiamo tra medici, infermieri e qualcos'altro, se ne andranno dal posto pubblico. Immaginate voi cosa succede sulla sanità.